Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Provate il nuovo servizio di montaggio SMD beneficiando di uno sconto di 7 dollari sulle spese di montaggio. Ciao a tutti! Prima di cominciare un saluto a due nuovi patrons che hanno raggiunto la nostra comunità di elettronici entusiasti. Ciao a Nicolò e Massimo, grazie molto per il vostro supporto. Veniamo al video di questa sera. Si tratta di una riparazione, forse l'avrete già intuito, l'oggetto che si trova qui alle mie spalle è un TV LCD Samsung 32 pollici che ci è stato consegnato da un mio conoscente che però vuole rimanere nell'anonimato più spinto. Questo televisore ha la particolarità che in pratica appena lo si prova ad accendere fa saltare la corrente, quindi saltano le protezioni al contatore di casa e questo è il problema. Quindi lo andremo ad aprire, andremo ad analizzare il problema e ovviamente tenteremo la riparazione. Per cui, buona visione! Oggi abbiamo questo Samsung che una volta attaccato alla presa di corrente fa saltare l'interruttore generale, per cui presumibilmente ha un cortocircuito all'interno. Questo modello è un 32 pollici con sigla LE32A4-56C2D, AC220, 240V, 50Hz, 180W. Come sempre, per verificare il cortocircuito utilizziamo il trucco della lampadina. Quindi andremo a prendere la nostra tensione di rete con questa spina, andremo a fornire la tensione alla televisione tramite quest'altra presa e metteremo in serie, solo su un filo, la nostra lampadina. In questa maniera, se la televisione è in cortocircuito, andrà a mettere il cortocircuito fra questi due fili e l'unica cosa che succederà è che accenderemo la lampadina e quindi non faremo intervenire il nostro interruttore e capiremo che c'è un cortocircuito. Viceversa, se la televisione è funzionante, la lampadina in teoria non si dovrebbe neanche accendere perché questa è una lampadina a LED. Infatti sarebbe bene avere una lampadina a filamento, così avremo indicazione della magari bassa corrente con una piccola luminosità del filamento. Ma in questo momento ho questa lampadina a LED per cui in teoria o si accende nel caso di cortocircuito o rimane proprio spenta se la tv funziona normalmente, perché la bassa corrente della televisione non sarebbe in grado di accenderla. Andiamo quindi a fornire la 220 volt dalla ciabatta. Come previsto, avete visto che la lampadina si è accesa, quindi in un primo momento la televisione ha creato una sorta di cortocircuito. Adesso sta lampeggiando, il che significa che in realtà il cortocircuito si è tramutato in una resistenza equivalente un po' più elevata. Ripetiamo la prova una seconda volta. Stesso comportamento. Quindi un cortocircuito iniziale e poi dopo un pochino la corrente cala. Ripetiamo nuovamente l'accensione tenendo sotto controllo il LED. Quindi accendiamo, cortocircuito, vedete che però il LED rosso è acceso, stabile, non ha dei lampeggi. Quindi sembrerebbe che in questa condizione la televisione sia operativa. Se ora col telecomando proviamo ad accenderla, quindi tasto rosso, vedete che il LED lampeggia ma non riesce ad accendersi. Ecco, qua ha fatto praticamente un altro cortocircuito perché avete visto che la tensione sulla lampadina è aumentata, infatti si è accesa in maniera costante. Quindi se provo ad accenderla, la televisione va nella condizione, diciamo, di cortocircuito. Quindi possiamo supporre che all'interno c'è un componente che crea un assorbimento anomalo di corrente. Ora andiamo ad aprire la televisione e cerchiamo di capire qual è il problema. Andremo quindi a svitare tutte le viti che tengono ferma la cover posteriore. Ecco la tv aperta. Riconosciamo quindi dalla presa d'ingresso la scheda di alimentazione qui nel centro, la scheda madre T-Con per la gestione della parte televisione digitale e poi riconosciamo questo cavetto che porta le tensioni per la retroilluminazione. Infatti qui abbiamo i magnetici che poi vanno alle lampade. Riconosciamo sotto questo pannello metallico la scheda T-Con. Infatti vediamo che c'è il connettore che arriva a quest'altra scheda che è quella che si interfaccia con il mondo esterno, dove abbiamo appunto i connettori RCA, SCART e anche qua l'HDMI qua in angolo. Ricordiamo che la scheda T-Con che sta per timing controller nella televisione ha il ruolo di gestire i pannelli LCD nel senso che la mainboard invia il segnale video tramite LVDS quindi i dati viaggiano su questo cavo flat. Poi questo controller praticamente va a pilotare i driver orizzontali e verticali del pannello LCD secondo le frequenze per cui è stato progettato. Inoltre può operare anche delle manipolazioni del segnale come la gamma correction o HRD che sono funzioni tipiche delle tv digitali. Come prima operazione andiamo a staccare il cavo di alimentazione dalla scheda power supply per vedere che non sia un problema magari di collegamento che per qualche motivo abbiamo i fili che sono andati in corto circuito in questo percorso che va dalla presa alla scheda di alimentazione. Ridiamo tensione in queste condizioni. Come potevamo aspettarci la lampadina rimane spenta quindi il corto è a valle del cavo quindi dobbiamo andare a guardare la scheda di alimentazione. Verifichiamo con un multimetro in misura resistiva o comunque di continuità cosa si vede dai due terminali di ingresso della tensione quindi andiamo a vedere il multimetro indica circuito aperto quindi da un punto di vista della misura in continua fatta dal nostro multimetro vediamo una resistenza elevata. La scheda di alimentazione si preoccupa di generare le tensioni necessarie al funzionamento della televisione per la parte di scheda madre e anche per la parte di inverter. Infatti dopo a valle abbiamo il pilotaggio delle lampade ccfl che necessitano di una elevata tensione e una corrente stabilizzata per il loro funzionamento. Riconosciamo qua sul lato i trasformatori impiegati per il funzionamento dell'inverter e quindi l'accensione delle lampade ccfl. A seconda del tipo di architettura utilizzata per l'inverter possono avere diversa forma e avvolgimenti. In questo caso sono molto piatti e vanno sotto il nome di tripla risonanza. Infatti esiste uno schema di principio per cui la frequenza di risonanza del secondario di questo inverter è tre volte la frequenza fondamentale diciamo di pilotaggio. Rimuoviamo ora le viti che fissano la scheda al pannello in modo che così potremo lavorarci a banco. Per queste prime verifiche posso lasciare collegati anche i connettori tanto riesco a ruotare la scheda e accedere al lato saldature. Partendo dall'ingresso della 220 qua incontriamo subito un filtro IMI quindi con i condensatori di sicurezza e le bobine di filtro. Qua riconosciamo il ponte raddrizzatore che è montato su un'aletta a dissipazione. Poi notiamo un po' di componenti attivi probabilmente dei diodi e dei mosfet e qua il primo stadio dello switching quindi sicuramente un magnetico e da qui in poi avremo la parte dell'inverter. Quindi come prima verifica andiamo a vedere ad esempio il ponte a diodi se come giunzioni diciamo sono operative e anche questi componenti attivi con l'uso del multimetro. Cominciando dall'ingresso vediamo quale piste che portano la 220 volt fino al ponte raddrizzatore. Incontriamo da prima una protezione quindi da sovratensioni. Poi abbiamo il filtro di modo comune vediamo la bobina che è disegnata qua con questo simbolo e riconosciamo i quattro terminali. I condensatori di sicurezza sono indicati anche con questa serigrafia sul dorso quindi li vediamo indicati qui e avanti. Un'altra bobina di modo comune e infine il ponte raddrizzatore. Quindi avremo i due pin centrali che sono i pin di alternata e i pin esterni la raddrizzata in continua. Quindi come prima verifica andiamo a vedere le giunzioni dei quattro diodi del ponte. Multimetro in modalità prova giunzione mettiamo il terminale positivo su questo estremo che dovrebbe essere il positivo. Qua abbiamo il diodo corretto anche qui. Questa volta mettiamo il negativo sul terminale della massa. Vediamo gli altri due diodi. Ok e ok. Quindi il ponte raddrizzatore effettivamente ha i diodi integri. In questa modalità volante diamo tensione. Stiamo sempre molto attenti perché qua stiamo lavorando ovviamente con la scheda non nella sua posizione e quindi qualsiasi parte metallica che potrebbe andare a contatto potrebbe portarci a contatto con l'alta tensione. Quindi sempre massima attenzione. Fornendo tensione con la lampadina in serie collegata questa si accende in maniera alternativa. Significa che di tanto in tanto avviene il cortocircuito. In queste condizioni andiamo a vedere la tensione ai capi del ponte raddrizzatore. Quindi la tensione alternata sul ponte. Vedete che oscilla fra valore nominale di rete e poi ha dei buchi a tensioni più basse. Perché ovviamente quando si innesca il cortocircuito la lampadina si accende e fa cadere tensione. Imposto il multimetro in tensione continua e vado a vedere la tensione ai capi del ponte. Anche questa mi aspetto che sia una tensione che balla. Infatti vedete balla fra il suo valore nominale di 325 volt con dei buchi. Proseguiamo l'indagine. La tensione continua ai capi del ponte. Riconosciamo questi due pin esterni. Arriva su questo condensatore. Poi da qua vedete che va a un diodo. Quindi potremo andare a vedere se questo diodo risulta essere buono. Andiamo a vedere la sua giunzione. Dopo aver il multimetro in modalità prova diodo. Vedete qua 422 millivolt di tensione diretta. Quindi comunque il multimetro vede la giunzione. Sembra essere buono. Nel caso di una televisione Samsung lo schema si può reperire abbastanza facilmente. Questa scheda è la BN4400214A. Quindi partendo dall'ingresso dove riconosciamo fase neutro abbiamo il fusibile. Protezione contro le sovratensioni. Poi abbiamo questa resistenza di scarica del condensatore di filtro. Questo è un primo condensatore di filtro del valore di 330 nF. Bobina di modo comune. Andiamo avanti con un altro condensatore di filtro. Altra bobina di modo comune. E finalmente il ponte raddrizzatore. Fin qua avevamo visto che è tutto ok. Poi abbiamo questo condensatore da 0,47 micro. E infine questo diodo è quello che abbiamo controllato prima. Questo diodo fa parte di questo blocco che è il PFC. Quindi il correttore del fattore di potenza. Ed è organizzato con un MOSFET che viene pilotato da questo integrato che si occupa appunto di gestire il suo switching. E abbiamo che l'uscita tramite questo diodo. E vedete che il diodo e il MOSFET sono sullo stesso dissipatore. L'uscita di questo diodo viene portata poi al grande elettrolitico da 150 microfarad. Quindi una prima verifica che possiamo fare è vedere in questa zona del PFC se tutto funziona regolarmente. Quindi nella nostra scheda abbiamo localizzato il filtro IMI, ponte raddrizzatore, il condensatore da 0,47 micro. Questo è il diodo che abbiamo visto prima sul PFC. E questi due sono il MOSFET e il diodo che si occupano di raddrizzare la tensione per portarla poi al grande elettrolitico. Questa resistenza è la resistenza di sensing della corrente del nostro PFC controller che quindi è localizzato in questa zona qui. Come sempre è consigliabile un attento esame visivo per vedere che non ci sia qualcosa di macroscopico a livello di guasti. Nel mio caso, osservando attentamente questa zona, si vede che abbiamo dei segni di bruciatura. Qua abbiamo del nero proprio qua da questo condensatore. Allora ci sono due passi che collegano il positivo di questo elettrolitico al resto del circuito e qua abbiamo del nero e abbiamo questo condensatore da 1 kV che fa da ponte fra queste due zone. Per cui una prima prova potrebbe essere quella di sezionare a livello di questi passi per vedere che il problema effettivamente risieda nella parte a valle. Quindi che questa zona della scheda vada a caricare troppo quest'altra. Quindi la andiamo a sezionare qui. Ancora prima di aprire questi passi andiamo a vedere questo condensatore che risulta vicino al nero. Quindi con il multimetro in funzione misura resistenza vediamo 580 ohm. È un valore che non è un cortocircuito però è sospetto. Quindi proviamo in prima battuta a dissaldare questo condensatore che risulta essere proprio nella zona vicina all'esplosione. Infatti questo nero fa supporre un grande calore sviluppato a questo livello e questo condensatore potrebbe averne subito le conseguenze. Il condensatore una volta rimosso sembra essere integro almeno sul corpo. Dopo ne faremo una misura. Piuttosto invece sotto di lui vedete che uno dei due passi è interrotto. Quindi la corrente forte che è stata richiamata dallo stadio a valle è stata in grado addirittura di interrompere questo passo. Quindi quello che facciamo è semplicemente aprire anche l'altro e vedere se effettivamente fino a questo livello la scheda rimane in una condizione di assorbimento corrente normale. Ho aperto quindi anche il secondo passo e ho fatto un po' di pulizia. Con tutti i due passi aperti ho dato alimentazione. La lampadina si accende poco. Potrebbe essere una piccola corrente nominale che scorre. Andiamo a vedere la tensione in continuo ai capi del condensatore. 314 volt e direi anche abbastanza stabili. Quindi sembrerebbe che il primo stadio effettivamente essendo sezionato dalla parte a valle sia stabile. Ho tolto la lampadina in serie e ho dato alimentazione e non salta più la protezione per cortocircuito. Per cui effettivamente possiamo dire che la parte che crea il cortocircuito è a valle del PFC. Quindi fino a qua tutto bene. Questo è il nostro condensatore elettrolitico. C'è stato un forte richiamo di corrente su questa maglia. Vediamo che questi nodi fanno capo a questa sezione del circuito che non è la responsabile perché noi abbiamo aperto i passi che vanno al PFC OUT. Quindi la parte che richiama corrente e dove ci sarà probabilmente il guasto è a valle di questo segnale PFC OUT. A pagina 2 dello schema il segnale PFC OUT arriva qui. Vedete che c'è una catena di resistenze che probabilmente è il sensing della tensione elevata. Quindi si sente questa tensione tramite un riferimento di tensione e un transistor BJT che vanno ad abilitare questo che è un controller il quale va a pilotare questo trasformatore e dalla parte del secondario abbiamo due MOSFET di potenza che vanno a pilotare a loro volta questo magnetico dal quale poi verranno create tutte le tensioni secondarie. Quindi andiamo a fare un po' di verifiche ora se soprattutto sui componenti di potenza come ad esempio questi MOSFET questi qui per vedere se sono operativi e se dalla parte del controllo non ci sia qualche ramo che in maniera evidente porta una grande corrente dal segnale positivo alla massa. I nostri MOSFET sono questi due e sono entrambi degli FQ P5N50C dei MOSFET a canale N 500 volt 5 ampere. Quindi andremo con il multimetro a verificare se fra i terminali di drain e source abbiamo una resistenza elevata e se vediamo eventualmente la giunzione del diodo in antiparallelo. Eseguiamo la misura con il multimetro in prova diiodi quindi dal source al drain qua abbiamo la giunzione. Andiamo a vedere l'altro sempre dal source al drain anche qua la giunzione. Se andiamo dal source al gate troviamo un corto ma questo è normale perché lo schema come avete visto ha il pilotaggio tramite il trasformatore per cui in parallelo ai terminali di gate e source vediamo la bassa resistenza dell'avvolgimento del nostro magnetico. Per indagare su questa parte del circuito ho ripristinato il ponte dalla parte lato saldature così mi è comodo per fare le misure. Inserisco sempre una lampadina in serie e diamo tensione. Voglio vedere se abbiamo tensione su questa pista che è quella che riguarda il punto mediano dei due MOSFET che abbiamo visto prima. Quindi per vedere se i MOSFET in qualche maniera muovono questo punto. Diamo tensione ai capi del condensatore elettrolitico abbiamo i 311 volt. Vediamo fra il meno del condensatore quindi questo punto e il drain del transistor inferiore. Vedete che la tensione è praticamente zero quindi i due MOSFET non stanno switchando. Verifichiamo se la prima parte dello switching è funzionante e quindi la presenza della 5.2 volt al secondario del primo switching. Quindi andremo a misurare la nostra tensione direttamente sul condensatore CB 852. Andiamo direttamente su i piedini di CB 852 5.2 volt. Quindi il primo switching sta funzionando. Adesso bisogna verificare se per caso non serve un'abilitazione dall'interfaccia a connettore. Questi due MOSFET non sono pilotati perché il controller è tenuto spento e lui deve essere abilitato da un segnale di abilitazione. Deve leggere questa MVCC che è una tensione che arriva dallo switching che abbiamo visto prima funzionare con la 5.2 volt. Infatti questo segnale di abilitazione che è questo filo viene abilitato da questo transistor il quale è abilitato a sua volta da questo fotocoppiatore che è incascata alla 5.2 volt ma solo se viene premuto il bottone di on off. Quindi andremo a portare adesso questo punto a massa come se spingessimo il bottone di on off. Ho saldato questo filo al catodo del fotoisolatore. Se vado a toccare con questo punto il ground è come se spingessi il bottone di on off. Ho dato tensione alla scheda vedete che la lampadina sta lampeggiando quindi poca corrente. Se con questo filo vado a toccare la massa vedete che la lampadina si accende stabile. Il che vuol dire che lo stadio a valle crea un assorbimento troppo elevato che causerebbe il cortocircuito che poi è la causa che fa saltare gli interruttori di protezione. Per cui adesso posso saldare questo filo temporaneamente in questa piazzola di modo che avrò il bottone on off sempre acceso cioè diamo sempre l'abilitazione. Così possiamo indagare cosa succede nello stadio secondario. Per osservare quello che accade metto un filo sul meno del condensatore attacco la sonda dell'oscilloscopio e vado a vedere la tensione che c'è sul punto mediano dello switching quindi fra i due mosfet. Ecco la forma d'onda a 100 millisecondi di visione quindi vediamo che effettivamente il mosfet switcha poi probabilmente entra in gioco la lampadina che fa dal limitatore di corrente quindi si spegne fino a questo punto che proprio non abbiamo più tensione. Però all'interno di questo pacchetto il mosfet sta funzionando. Difatti se allargo la base tempi all'interno di questo pacchetto riconosco che il punto mediano del mosfet viaggia fra 300 volte zero con questa frequenza di switching. Il periodo di ripetizione è di circa 6 microsecondi infatti la frequenza misurata è 175 kilohertz. Dunque abbiamo visto che questo nodo switcha e poi a un certo momento si disabilita. Andiamo a vedere il controller in particolare i piedini di fault input il 10 che è un segnale che viene costruito a partire da questa rete. Se qualcosa non va bene questo piedino deve andare alto. Il segnale di fault input rimane basso per cui non c'è nessun problema a quel livello. Vediamo ora il segnale di enable che è il pin 9 del nostro controller ICM801 che è un MC33067 con package a 16 pin. Questo è il nostro controller poi abbiamo il trasformatore che crea le tensioni di accensioni per i nostri due mosfet. Il segnale di enable torna con quanto visto prima. Infatti vediamo che è alto e quindi abilita il controllo solo per un periodo abbastanza ridotto di circa 180 millisecondi e poi ciclicamente si spegne perché viene rilevata una condizione anomala. Questa condizione anomala noi la riusciamo a sostenere perché abbiamo messo una lampadina in ingresso vi ricordo che limita la corrente quindi non fa saltare le protezioni a monte perché altrimenti salterebbe sempre la corrente. Il segnale di abilitazione del secondo stadio switching è figlio del primo stadio switching che quando siamo a vuoto funziona bene perché se vi ricordate avevamo letto la 5.2 volt quando invece diamo l'abilitazione con l'on praticamente anche questo comincia a oscillare. Andiamo infatti a vedere la tensione presente ai pin 7.8 di drain perché in questo caso abbiamo che il nostro controller ha il mosfet integrato quindi andremo a vedere come switcha la tensione. Ecco com'è la tensione di drain sul primo controller quindi vediamo che abbiamo 0 volt poi c'è una rampa a salire a un certo momento quando c'è l'innesco dello startup il nostro controller comincia a oscillare e quindi il mosfet funziona poi dopo un pochino si spegne e poi riparte. Apriamo la base tempi per vedere come si comporta questo controller. Quindi abbiamo un certo pacchetto di switching lo vedete qua quindi lui parte il mosfet oscilla a una frequenza di circa 90 kHz mentre la tensione sta salendo poi a un certo punto si spegne poi si riaccende con un altro pacchettino poi ha delle botticine probabilmente questo è legato anche al transitorio ricordiamoci che abbiamo sempre una lampadina in serie quindi questo sicuramente falsa un po' le cose. Vedete che dopo questa sequenza di accendi spegni sembra che sia stabilizzato su diciamo una commutazione del mosfet quindi pilota. Dopo questa sequenza di on off poi si spegne definitivamente fino a che la tensione non è calata e il ciclo ricomincia. Questo invece è il segnale sul piedino 4 il feedback in pratica questo piedino quando va basso significa che la tensione al secondario è presente con il livello voluto e quando va alto invece no e vedete che è oscillante quindi anche l'anello di retroazione è un po' instabile. Questa invece è la tensione al piedino 5 startup quindi la tensione legata al più del condensatore elettrolitico che dovrebbe essere 300 volt con un partitore resistivo viene riportata a un valore più basso ed è quella che crea l'innesco del PWM su il primo controller e ovviamente anche questa è discontinua. Il funzionamento intermittente che abbiamo visto credo che sia dovuto al fatto che in serie abbiamo la lampadina cioè in pratica appena il nostro power supply comincia a funzionare tira una corrente elevata che sulla lampadina crea appunto l'accensione della lampadina la quale fa cadere tensione e quindi tutto il circuito va in under voltage e si spegne. Quindi adesso probabilmente senza lampadina la cosa potrebbe essere risolta. Proviamo ora ad alimentare la scheda con il variac quindi avremo la possibilità di andare su con la tensione piano piano in modo che se la corrente è eccessiva comunque riusciremo a gestire la situazione. Tengo sotto controllo il punto mediano del mosfet quello del secondo stadio andiamo su con la tensione 10 volt 20 30 ah già a 40 volt vedete che lo stadio ha cominciato a funzionare andiamo su piano piano qua la tensione la tiene qua siamo a 230 volt e la scheda sta funzionando con il segnale di on andiamo a misurare la tensione di uscita direttamente sul connettore a vuoto quindi senza niente collegato 24 volt si la scheda sta funzionando andiamo a vedere ora con la scheda inserita all'interno della televisione con tutti con le connettori collegati sempre senza lampadina e proviamo ad attaccare la scheda dando la 230 volt di botta vediamo cosa succede la scheda è partita e non salta più ho rifatto il passo solo uno però quello più separato perché l'altro vedete che al reofero proprio attaccato al corpo del condensatore essere andato in contatto un reofero del condensatore con il terminale alta potenza da qui c'è stata questa grande corrente che è passata ha aperto il tutto e da lì il patatrac dopo praticamente era sempre in cortocircuito infatti appena abbiamo rimosso il condensatore non abbiamo più avuto problemi all'inizio mi sembrava che fosse un'instabilità legata a comunque un guasto che c'era a valle che caricava in realtà quell'accendi spegni era semplicemente la presenza della lampadina in ingresso che ovviamente attraversata da corrente crea caduta di tensione e quindi fa andare in under voltage il controller che spegne il tutto effetto la misura del condensatore con l'lcr meter o 2.11 nfarad quindi il condensatore è ancora buono aveva causato il guasto di cortocircuito con un contatto del reofero ma il condensatore è ancora operativo per cui lo possiamo risaldare ho rimesso in pista il condensatore e poi vedete che è ben separato dal giunto posteriore che porta il positivo della tensione del condensatore rispetto allo stadio a valle costituito da questi due mosfet la funzione di questo condensatore come in molti switching è quella di creare una bassa impedenza per la frequenza di switching quindi per far sì che la frequenza di switching non si propaghi troppo verso le uscite in continua ma piuttosto rimanga confinata nello stadio di primario questo condensatore posto fra primario e secondario crea una rete di ritorno diciamo così di modo che la frequenza di switching rimanga confinata qui dentro la cosa fondamentale è che sia un condensatore ad alta tensione infatti questo è da un kilovolt perché è sottoposto ovviamente a sovratensioni infatti lo switching a seconda poi del carico che viene richiesto dalle lampade a valle può creare dei momenti in cui con il duty cycle e i carichi induttivi dati dai trasformatori dell'inverter delle lampade possono creare dei sovratensioni molto ampie in tensione ecco rimessa in pista la nostra scheda di alimentazione facciamo il test siamo pronti per il test ragazzi qua c'è aspettativa diamo tensione innanzitutto il led rosso si è acceso e non è saltata la corrente mettiamoci qua telecomando alla mano proviamo ad accendere la televisione tasto rosso led il lampeggio ok questo lo faceva anche prima va bene vediamo cosa succede oppala ecco qua la nostra televisione perfetto dovendo quindi fare l'autopsia del nostro guasto penso che sia andata così avevamo questo condensatore che era collegato con del materiale tipo colla attaccato proprio al condensatore e ai due giunti con l'andare del tempo probabilmente il potere isolante di questo materiale è venuto meno anche perché ricordiamoci che i giunti portando corrente si scaldano fino a che non è successo che uno di questi giunti è andato in contatto con uno dei terminali di questo condensatore questo condensatore ha un lato collegato a terra invece i giunti sono sul positivo della 315 volt quindi questo ha provocato un grande cortocircuito che è poi è stata la causa dell'interruzione di quel giunto da quel punto lì in poi la connessione positivo negativo era stabilita da il condensatore e questo giunto ecco perché tutte le volte che si andava ad attaccare la corrente col televisore funzionante saltava all'interruttore di protezione una ultima considerazione sul tipo di guasto che abbiamo riscontrato è un cortocircuito di quel genere è stato in grado di aprire addirittura uno dei due passi metallici perché la corrente era tutta quella generata dal condensatore carico verso massa quindi una scarica completa del condensatore e quella condizione è rimasta e quindi il positivo verso massa e impediva alla tv di accendersi creando un assorbimento in corrente molto elevato che faceva saltare le protezioni ma comunque non ha rotto nient'altro perché il guasto si è verificato proprio a valle del condensatore un richiamo così elevato di corrente è talmente rapido che non permette l'intervento del fusibile ma fa scattare subito gli interruttori di protezione sul nostro contattore di casa benissimo e con questo termina il video di riparazione di questo samsung 32 pollici come sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao